Ci avviciniamo a 40 anni e quindi è giusto e doveroso che lo annunciavamo perché fino adesso tanta gente ci ha voluto bene, tanta gente ha collaborato e dal momento che abbiamo anche una divisione musicale non c'era di meglio che farla in musica perché la musica è da allegria, da benessere. Noi con la nostra linea del furlo facciamo anche dei prodotti per il benessere emotivo e di conseguenza sabato sera presenteremo anche il nuovo Giggle che il signor Valerio Liboni, l'artista Valerio Liboni, dei nuovi angeli ci ha prodotto e quindi la musica è arte, la musica è musica e la musica è d'allegria. Quindi non potevamo fare di meglio che collaborare con il comune visto che ci ha sempre sostenuto e anche noi abbiamo sostenuto il nostro comune e non c'era di meglio che fare una serata assieme con il comune e come ospite poi d'onore dopo l'evento ci sarà anche il maestro Gardo Gelli, colui che ha lanciato nel mondo Romagna Mia ma che adesso lanceremo la canzone delle Marche, delle Marche con i suoi fiori perché noi abbiamo anche voluto lasciare un bel segno nel nostro passaggio terreno del discorso i fiori delle Marche che ci servono per fare i prodotti, i colori ci facciamo i coloranti e con le piante ufficinali ci estraiamo gli oli essenziali. E quindi ci siamo anche voluti inventare un brand proprio i fiori delle Marche che così tutta la regione Marche ne può beneficiare. L'evento è nella scalinata di Fermignano gratuito a tutti, l'evento inizia con gli artisti della Mido che abbiamo diversi componenti che già suonano. Invitiamo tutti a partecipare a una serata spensionata, allegra e sicuramente felice per tutti. L'orario è massimo le 21 perché noi cominciamo presto, abbiamo tanti artisti sul palco e finiremo oltre la mesanotte. Già qualche anno fa durante una serata a Pesaro ho avuto modo di incontrare i signordini e quindi conosco il mondo della Mido e quando mi è stato chiesto di fare un jingle per questa ditta così gloriosa, per l'inizio del 39esimo anno l'ho fatto volentieri. È piaciuto, lo ascolterete in esclusiva sabato sera. Io ho 50 anni di carriera, ho venduto 17 milioni di dischi, prima con la strana società, con un brano che si chiama Popcorn, poi i nuovi angeli, tanti anni, donna felicità, segna porre, ragazzina, tanti successi. Da qualche anno sono solista, ho un gruppo che si chiama Valerio Riboni, la Libo Band, con tre coliste e un tassierista. Oltre a scrivere e a produrre, scrivo anche libri e questi giorni è uscito il mio terzo libro che si chiama Sassera Riboni, lo trovate su Amazon. Sono molto contento di partecipare a questo evento, perché mi piace anche dire dei fiori delle marche e quindi sto pensando anche ad un brano che rappresenta appunto questo desiderio del signor Dini di attuare anche questo prestigioso progetto.